ciao a tutti oggi sono dietro la telecamera e quindi vuol dire molto probabilmente che questo video non avrà i commenti attivi perché youtube lo prenderà per bambini quindi o forse lo metterò direttamente io scusatemi nel caso fosse così sono malata cioè io sono riuscita a prendermi l'influenza a fine luglio pazzesco sono stata parecchio male infatti non ho registrato dovevo registrare questo video un po di tempo fa tipo almeno 3 4 giorni fa non ce la facevo neanche parlare ora la mia voce è un po cavernicola fuori stanno tagliando l'erba qua c'è un delirio quindi ho detto mi metto a registrare blind bag come potete vedere ragazzi sono in crisi perché dove prendevo le blind bag io a un euro non ci sono più cioè la bancarella del mercato che tanto amavo e amavate anche voi non c'è più stata per un paio di mesi ora non so se ha saltato i mesi estivi scusate la voce sarà terribile oppure è proprio andata via io spero di no spero che un giorno mi venga questa meravigliosa visuale ovvero la bancarella e giuro che farò una scorta almeno di 10 15 blind bag perché veramente troppo belle sono troppo quindi ho dovuto ripiegare su altre cose allora in questo caso due gashapon che ho trovato in un distributore in un supermercato e due blind bag questo l'ho presa al dm in cassa se non sbaglio ed è una specie di doppia cosa ovvero c'ha delle caramelline qua e sotto la sorpresa e praticamente tutte queste tre le ho pagate un euro mentre questa l'ho pagata se non sbaglio dovrebbe anche esserci scritto 299 qua sotto e sono animali stretchy quindi quelli gommosini allora io direi di iniziare dal da questo qua dagli animali stretching quindi sposto un attimo di là le mie altre blind bag allora dalla figura sono veramente tutti molto carini specialmente il coccodrillo mi piace un sacco e dalla checklist ovvero questa qua dietro l'unico che non mi fa impazzire è il bradipo ovvero lui il resto sono tutti carini però io spererei di aver trovato o l'elefantino o l'unicorno o il coccodrillo anche l'alpaca e non è male tra l'altro quello special glow in the dark l'orsetto berry è molto carino però avevo già preso degli orsetti simili se vi ricordate quindi non lo so vediamo speriamo di aver trovato l'unico che non mi piace queste sono della cool things questa marchia marca qua e niente andiamo a vedere mi tolgo un secondo apro vedo del rosa quindi vedo l'orsetto ah no l'unicorno ma che bello wow ma non c'è la checklist dentro no non c'è però è super ah è qua la checklist no ma è bellissimo andiamo ad aprirlo è bellissimo oh mio dio ma come è fatto poi ragazzi è bellissimo allora è tutto fluxia fluo ed è io pensavo fosse tipo gommoso e basta e invece di quelli con dentro tipo la sabbietta sentite anche il suono cioè bellissimo veramente bello ed è molto molto carino cioè non pensavo fosse così carino oddio è difficile che adesso gli ho piattito il musetto poverino che carino qua fa vedere anche la checklist un po meglio ragazzi mi piaceva un sacco il coccodrillo era troppo carino cocco veramente carino e anche l'elefantino secondo me molto molto bello ma un po tutti è anche loro due non sono male manca l'alpaca non so come mai qua c'è anche l'alpaca qua no però vabbè è super carino fatto molto molto bene lo potete tirare rimane così lo potete schiacciare lo potete proprio manovrare e un po appiccicatino perché di gomma no torna a essere normale aspetta ok più o meno lo sistemiamo cornetta ok ecco qua dai non è male carino molto molto carino bello se devo dargli un voto a questo gli do un bel 8 perché 8 su 10 poi andiamo con queste my little pony flippers allora sono queste cosine qua che vanno adesso visto che vanno di modo di moda andavano di moda anche una volta tanto 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 tempo fa c'erano le bustine con questi cosini che diciamo andavano di moda sono 16 sono tanti e a me piace sinceramente molto questo qui starlight vabbè rainbow questo qua anche non è male il primo questa carina princess candies e forse basta gli altri non mi fanno impazzire qua c'è una mega checklist secondo me appesa così adesso vado a vedere com'è scherzavo non è una mega checklist già mi illudevo è una cosa non lo so di tutti gli ingredienti robe varie e quindi niente dunque da una parte ci sono le caramelle penso qua a questo punto che non vado ad aprire e dall'altra c'è la sorpresa penso di qua andiamo a vedere allora adesso io apro da questa parte e vediamo che abbiamo trovato carina metti a fuoco eccola che carina mi piace era quella che mi piaceva già ah qui c'è la checklist l'ho un po tagliata ma c'è eccola qua noi quindi abbiamo trovato dov'è dov'è la prima ok sì lei twilight sparkle sono carine non pensavo anche lei mi piace prima non l'avevo vista fluttershy e niente carinissime veramente carine e nulla in realtà penso siano solo delle figure cioè nel senso stanno in piedi se fai così ritornano in piedi e niente sono così da collezionare molto carine se ritorno ne prendo altre due o tre perché comunque un euro e sono molto carine quindi niente male carina non me l'aspettavo pensavo fossero un po più bruttine tra virgolette invece niente male allora due gashapon una è dei come si chiamano chip e chop sono tornati questi nelle loro casettine se ve li ricordate quando se siete degli anni 90 o anche prima ve li ricorderete c'erano tanto winnie de pooh e lo kitty eccetera e invece questi dovrebbero essere dei gattini in versione diciamo squishy quindi prima apro questo anche se si vede già chi ho trovato perché è trasparente si vede che ho trovato chop con la carotina vediamola un'occhiata veloce alla checklist è questa qua sinceramente mi piaceva molto questo nella mela e questo nella ghianda e noi abbiamo trovato invece lui nella carotina è carino per carità non è brutto c'ha gli occhietti chiusi come se stesse dormendo piccolino e nulla carino questo l'ho trovato ho detto ma si prendiamoli è una novità dove è l'altra ok non trovo più quest'altra per una volta si è aperta velocemente non mi sono dovuta spaccare le mani è assurdo il gatto che abbiamo trovato è super puccioso ed è uh che carino tutto fucsia apriamolo qua non c'è la checklist quindi pazienza che carino guardatelo in pratica è di quegli squishy con dentro tipo la farina quelle cose così anche questo è un po' appiccicoso ma secondo me è perché essendo estate fa caldo e quindi questa gommina diventa appiccicosa carino oggi era un unboxing fucsia perché è tutto fucsia lui è fucsia lui è fucsia lui è violetto fucsia ma più o meno e niente carini veramente carini oggi è stato un unboxing carino quindi scrivete sotto unboxing carino se ci saranno i commenti attivi ovviamente altrimenti pazienza e nulla fatemi sapere sempre se ci saranno i commenti attivi quale vi è piaciuto di più io sono rimasta molto sorpresa e piacevolmente da questo sinceramente niente di che però secondo me è ben fatto ed è molto carino eccolo ed è l'unicorno perché non me lo aspettavo così ma me lo aspettavo un po' come questo ecco pensavo fosse un po' tipo questo qua niente grazie di aver visto il video e niente torno presto con altri video appena sto meglio e riesco a registrare qualcosina un grosso bacio noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao ciao